Siamo qui con Lorenzo Sedran, due domande per lei. Una partita complicata inizialmente da sbloccare, ma alla fine ci siete riusciti. Ecco, qual è stato il vostro segreto? Sì, il nostro segreto è effettivamente stata una partita complicatissima. Comunque erano molto veloci, molto bravi tecnicamente, però siamo stati bravi perché siamo arrivati compatti dietro e ci siamo allargati sulle fasce quando si trattava di partire. Abbiamo tirato in porta quando si trattava in porta e abbiamo fatto girare la palla. È un torneo, non ci si può permettere di perdere e voi ci siete riusciti. Esatto, giusto. Grazie, grazie mille.